Il sentiero dei Bregoli collega Casalecchio con il santuario di San Luca. Si parte dal Parco Talon. Si prende la pista bianca a destra della chiesa di San Martino. È un sentiero molto antico, utilizzato per secoli dai pellegrini che dalla Valle del Reno arrivavano a Bologna. Il sentiero rimase interrotto a causa di frane e varie vicissitudini. È stato rieparto solo nel 2010. La parola Bregoli sembra deridi da fascine, perché la popolazione lo percorreva per cercare rametti per il fuoco. Il dislibello è di 142 metri. La sua lunghezza è di 1,7 chilometri. Pur non presentando difficoltà tecniche il sentiero è molto ripido nella prima metà. Il percorso è sconsigliato quando il terreno è bagnato perché è facile scivolare. A presto. 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 Grazie per la visione!